let's go e da un po' che non facevo un video ho deciso quindi di riniziare con quello che è un vlog più che altro perché beh, è da tempo che non mi mettevo a fare video o altre cose perché sono stato molto concentrato con le qualifiche che sono andate male come sapete, sono stato molto concentrato con il team e altre cose e quindi non mi sono preoccupato di fare video, ma ovviamente ora diciamo dal periodo pre-capodanno inizierò a fare qualche video e poi da dopo capodanno rinizierò a stecca come prima, avrò via bomba subito a fare miliardi di video su diverse cose eccetera eccetera comunque questo video è diverso dagli altri come avete già visto dal titolo è anche uno shock per alcuni di voi e si tratta proprio della scuf gaming, ma prima voglio parlarvi di alcune cose cioè perché diciamo mi sono sono passato alla scuf gaming allora per prima cosa mi trovo nei killer fish killer fish sono sponsorizzati da scuf gaming e non potevo rimanere con la barna per un conflitto di interessi, per via anche di firmare un contratto, per via del fatto che sono due sponsor concorrenti eccetera eccetera però stando a Cologna ho ricevuto un'offerta molto bella da Jonas che è il diciamo chi comanda scuf france e allora ho deciso di passare a scuf in questo caso ma anche perché, non solo perché la barna non mi piace o altre cose ma perché preferisco i pad della ps4 della scuf per determinati motivi che vi spiegherò più avanti comunque voglio far vedere il pack della scuf che mi è stato mandato, qui ci sono i due pad quello dei killer fish blue, quello nero che mi hanno mandato a me senza paddle perché ho voluto provarlo senza paddle e bene allora partiamo subito da questo pack allora qua c'è un portachiavi che non ho voluto mettere perché non mi piacciono i portachiavi così lunghi ma devo dire che è molto figo invece ho messo questo qua che si dovrebbe tenere al braccio con la scritta scuf gaming ma niente di che la gamer grip ecco questa è una cosa veramente utile non gli avrei dato una lira la gamer grip e devo dire che in verità ha effetto io la uso principalmente per i pollici cioè metto una goccetta di questi sui pollici li strofino assieme e poi comincio a sbatterli così praticamente in aria praticamente per fargli prendere aria allo stesso modo questa è la borsetta che mi piace molto per le tasche che ha comunque come è fatta per il materiale è molto grande ci potete mettere tantissime cose alla fine dentro ed è molto bella dall'alto devo dire quando si va agli venti comunque è fatta di un bel materiale questa è la custodia per portare il pad per evitare che si rompa quindi se lo portate magari in una valigia non l'avete con voi nello zaino è molto utile perché evita che si rompa ma ora passiamo a quelli che sono i pad allora prima di passare diciamo a vedere i pad il pad senza pad che ora non sto usando se vedete infatti non è per niente usurata è proprio nuovo voglio parlarvi un pochino di alcune cose della scaf di quello che mi piace quindi utilizzeremo lo smarf allora per prima cosa il pad della scaf ha questi analogici che vedete qui non so se riuscite a vederli come sono fatti sono molto particolari ricordano quelli della 360 ma sono un pochino più alti di quelli della ps4 anzi datemi un secondo vi vado a prendere proprio un pad della ps4 normale che così vi posso far vedere praticamente come com'è la differenza di pad allora guardate guardate ora la differenza che c'è tra l'altezza degli analogici di quello della scaf e ora di quello normale come vedete è molto più basso allo stesso modo se è molto più basso quello normale allo stesso modo sono anche molto più concavi all'interno e sono fatti di un materiale che come vedete guardate il dito praticamente non mi si muove da sopra mentre invece questi rischiate vedete come si sposta piano piano mentre vado e comunque questi qui avendo questo diciamo questo materiale gommoso riescono a tenere meglio con il dito comunque attaccato all'analogico e vi consentono quindi di mirare meglio allo stesso modo essendo più alti avete molto più angolo e quindi ovviamente risulta come una sorta di control freak alla fine quindi per chi magari non gioca con il control freak o non si trova questi di altezza media sono ottimi esistono anche quelli di altezza più alta che io consiglio di usare solamente per l'analogico destro ma passiamo alle seconde diciamo alle altre feature di questo controller a parte la vernice che è quella della scufa mi è sempre piaciuta perché è una vernice comunque opaca e allo stesso modo anti scivolo non è come la soft touch della bar controller ma comunque devo dire che è abbastanza buona mi piace anzi al tatto più che altro è molto bella ma una delle cose più belle sta qui dietro oltre ai paddle allora per prima cosa io ho tenuto la vibrazione per un fatto che il pad della ps4 è già leggero di suo già è troppo piccolo per le mie mani ed è questo anche un motivo per cui ho smesso di giocare in clou perché non riuscivo a trovare un bilanciamento una precisione non mi sentivo abbastanza preciso con le sensibilità che ci sono su black ops specialmente sulla ps4 anche se c'è una grande automira mi trovavo male con la clou ma questo perché perché giocare in clou con un pad piccolo quando si hanno delle dita molto grandi comporta alla fine uno sforzo esagerato quindi ero a volte più concentrato su come tenere il pad su come mirare che sul gioco e quindi utilizzare la magari la mia abilità il mio brain eccetera eccetera e giocando con i paddle comunque le mie mani sono molto meno stressati mi dispiace di abbandonare così la clou ma ovviamente non è così come posso dire non ha tutto questo grandissimo effetto su black ops 3 perché perché comunque avendoci fast hand il y non è così utile allo stesso modo non riesco a mirare bene avendo le mani molto grandi e prendendo il pad in questo caso in questo modo in questo modo non riesco ad essere abbastanza preciso non riesco ad avere la precisione che richiedo mentre invece stanno così le mani sono meno stressate ovviamente si fa meno forza su questa parte dell'indice comunque all'interno della mano e riuscite quindi a mirare meglio infatti io gioco proprio così utilizzando i paddle sotto io gioco ovviamente con la predefinita con l'impostazione predefinita delle mani dei tasti scusate non delle mani perché questo? perché mi piace abbassarmi tenendo premuto il paddle destro e anche perché sono abituato a giocare così ma la cosa che più diciamo è utile è il fatto che a volte pure se premete per sbaglio il tasto per abbassarvi non fai tunovio non vi può aiutare perché potrete schivare dei colpi al petto magari o sennò vi potrà uccidere questa cosa perché prenderete degli headshot comunque da quando la uso ci ho messo uno o due giorni più o meno a ricordarmi come si giocava con le dita normale giocando assiduamente con la configurazione predefinita e con i paddle devo dire che mi trovo molto bene la cosa bella poi sono proprio i paddle come sono fatti e come vedete sono ergonomici hanno un taglio laterale praticamente che vi consente di premerli e quindi di essere comodi non sono dritti non sono curvi verso l'interno o verso l'esterno del joystick ma hanno questo taglio così che vi basterà pochissima pressione non so se si sente il rumore spero si sente il rumore del click in modo che possiate capire quanto poca forza serve per premerli quindi è molto ma molto molto semplice comunque queste sono le motivazioni del perché sono passato a scaf e del perché non gioco più in claw beh questa è la verità ragazzi non mi trovo più bene su su questo gioco a giocare in claw perché la mano è troppo sotto sforzo essendo il joystick molto piccolo per le mie mani quindi ho deciso di passare in questo caso direttamente a giocare così con i paddle e devo dire che mi trovo molto bene sta dando i suoi frutti riesco la mia mano è molto meno stressata quindi il mio shot è molto più diciamo tranquillo mi muovo molto meglio più liberamente io spero vi sia piaciuto questo video ci sentiamo nel prossimo video spero presto un saluto ci becchiamo al prossimo video buone feste let's go